Vertenza Solsonica Avanti Piano Anche se ci sono dei ritardi rispetto all'accordo sottoscritto si stanno firmando i passaggi dei lavoratori da Solsonica Gala come ha dichiarato Luigi D'Antonio della FIOM CGL Rieti Sembrerebbe che nei prossimi giorni ci dovrebbe essere anche il decreto di omologa del concordato quindi noi auspichiamo di ripartire il prima possibile Delle persone sono rientrate dentro, stanno rianviando la produzione, le commesse ci sono, ovviamente non sono sufficienti a coprire l'intera capacità produttiva però dove aver aspettato molto qualcosa si comincia a vedere Inevitabile da parte dei sindacati la richiesta a Gala di accelerare i tempi finora particolarmente lunghi C'è la questione relativa agli ammortizzatori sociali pure che scadono quindi è necessario accelerare e portare anche nuove produzioni perché quello che puntiamo noi come abbiamo sempre detto è il riassorbimento completo delle persone Grazie a tutti